e anche in modo diverso, perché comunque io rappresento i giovani imprenditori e soprattutto i imprenditori che nell'ultimo periodo hanno avuto un po' più, hanno studiato poi a livello mondiale e quindi la possibilità di aiutare la cultura e l'arte italiana. Mi sento fortunata, ho realizzato il mio sogno, perché io disegno sulla scritta disegno corse e attraverso il mio sogno voglio realizzare anche il sogno delle giovani cantanti libiche per cui con la fiducia finanzieremo appunto, allungeremo queste cantanti libiche nel loro percorso per poi insomma realizzare quello che è il grande sogno.